non è altro che una tassa in misura fissa, quindi una tassa con un'unica aliquota che andrebbe a sostituire tutte le aliquote oggi assistenti nel panorama tributario. Quindi parte dal 23% e l'ultima del 43% andrebbero a essere tutte sostituite in un'unica grande aliquota del 15% che si applicherebbe sui redditi imponibili. Nessuno ha mai parlato, nessuno ha mai entrato nello specifico su come la flat tax oltre a rimodulare le aliquote dovrebbero andare anche a modificare eventualmente delle detrazioni d'imposta. L'articolo 53 della Costituzione dice che ciascuno deve partecipare in base alla propria capacità contributiva e che il sistema ha informato a criteri di progressività, quindi chiaramente possono sorgere dei dubbi circa una incostituzionalità di una presunta norma fatta con un'unica aliquota. Facciamo una simulazione su alcune persone se venisse applicata questa tassa. Sì, allora partiamo da un libero professionista che non ha carichi di famiglia e che ha un reddito che sfiora i 60.000 euro e oggi pagherebbe circa 15.000 euro di imposto e con una flat tax arriverebbe a circa 7.400 euro di imposto. Il risparmio quindi sarebbe di oltre 7.600 euro e quindi circa un 13% del reddito complessivo. Ipotizziamo un dipendente quindi, un dirigente medico che ha un reddito di oltre 130.000 e che quindi oggi va a pagare quasi 50.000 euro di reddito e la flat tax di un 15% andrebbe a pagare 20.000 euro di reddito, quindi più di 30.000 euro in meno, quindi oltre il 22% del proprio reddito originario, quindi un risparmio del 22%. Mentre invece, ad esempio, un artigiano, un imprenditore individuale, quindi con dei figli a carico, che ha un reddito di 23.000 euro e oggi paga circa 3.500 euro di imposte, domani ne andrebbe a pagare 2.300, quindi con un risparmio di 1.100 euro, quindi un 5% del proprio reddito. È evidente quindi, si capisce già da questi primi dati, come una flat tax che vada a toccare esclusivamente le liquide senza andare a modificare le detrazioni e risulterebbe chiaramente più vantaggiosa per i redditi più alti.